Michele Gianni Corsi Revisoree Sono una stand-up comedian, che uno già dice che è. Allora, diciamo che il mio lavoro consiste nel cercare di far ridere le persone su argomenti spinosi, difficili, sui tabù, persino sulle paure. Mi piace far ridere le persone dicendo quelle cose che sul palco, ok, ma se le dici per strada, te menano. Allora, io definisco il mio lavoro, mi piace dire, che mi piace mettere in discussione i sistemi di pensiero dominante. Quindi, quando mi hanno chiamato per questo TED, io sono stata inizialmente molto contenta, ma quando mi hanno comunicato il tema, appunto, di riferimento, Pietra Miliare, io sono andata immediatamente in crisi. Ho pensato diversi giorni a quali siano i miei punti di riferimento nella vita. Ci ho pensato tanto, e più ci pensavo, e più le cose mi sembravano piuttosto degli stereotipi. Diciamo, quando pensavo a dei punti di riferimento universali, mi sembravano un po' vuoti, mi sembravano piuttosto delle abitudini, quasi delle gabbie. Ci ho pensato tanto, sono stata un giorno intero a guardare il soffitto. A un certo punto mi sono detta, oddio, ma io non ho valori, sono un'autarchica, non credo in nulla, e a quel punto ho pianto. Cioè, a me questi del TED di Castelfranco Veneto mi hanno fatto piangere, che si sappia. Cioè, questa non è una storia di successo, è una storia di crisi. Io sono andata in crisi, stavo là che piangevo disperata, a un certo punto mi sono fermata e mi sono detta, ammazza però quanto mi piace piangere. E a quel punto mi sono messa a ridere. Ho riso di me che sto sempre a piangere. E finalmente ho capito di cosa vi avrei potuto parlare. Cioè, il mio punto di riferimento nella vita è non piangere. È l'autoironia. L'autoironia è questa cosa, questo meccanismo che mi scatta automaticamente nei momenti difficili della vita. È questo istinto per cui, quando mi succede qualcosa nelle relazioni, sul lavoro, anche quando ho dei pensieri cattivi, improvvisamente mi viene in mente una battuta, cioè viene in mente un aspetto comico. E questa cosa è molto bella, perché mi ha fatto riflettere sul fatto che l'autoironia, di fatto, è proprio una forma di autocompassione, è una forma di autoaccettazione. L'autoironia è una forma di pietas. Ma vediamo un caso pratico. Poniamo il caso che io abbia l'esigenza di piangere. Che faccio? Chiamo un amico. Chiamo un amico e comincio a piangere, perché piangere da soli non è bello come piangere in compagnia di qualcuno, non so se ci avete fatto caso. Allora io ti chiamo e comincio a piangere. Quando sono arrivata all'apice della disperazione, proprio che sono tutta rossa, tutta sudata, non so se qua c'è qualcuno che suda quando piange, io sudo un sacco proprio perché ce la metto tutta quando piango. Quindi quando arrivo tutta rossa, tutta sudata, quando mi comincia a uscire il moccolo dal naso, a quel punto di solito mi viene in mente una cosa divertente. Diciamo il moccolo è il punto di rottura della crisi di solito. Ma vediamo a questo punto proprio l'esempio pratico. Questa era la teoria. Tempo fa, mi ricordo, stavo vivendo un momento difficile, ho chiamato una mia amica ed ho iniziato a piangere perché non riuscivo ad avere figli. Tema delicatissimo, molto spinoso. La mia amica era in silenzio e mi guardava con una faccia tipo quella della signora qui in prima fila, cioè così. Era chiaro pallida in faccia, era chiaro che stava pensando zitta, non dire niente, che se sbagli questa si suicida. e io poverina la guardavo e stavo là, lei annuiva. Annuiva. E io dicevo cose a lei fino a che io ero disperatissima e dico sarò sola, io sarò sola, ti rendi conto, io sarò sola con i gatti, io sarò una gattara del cazzo, sarò come quelle persone che pensano che i gatti siano come i loro figli. Dico ma come sì? No, sì, no, sì, no, nel senso sì, poi insomma alla fine i gatti, però uno gli vuole bene. E lì, e lì, proprio quando il moccio lo sgorgava io ho pensato ma sì, ma sì, alla fine è vero, i gatti diventano un po' come dei figli, però sono più comodi perché non gli devi far fare la prima comunione. Anche se io devo dire per la castrazione due bomboniere pensavo lo stesso di farle, mi sembrava una cosa carina, li voglio bene a questi gatti. E a quel punto ho visto che la mia amica rifioriva proprio, rideva a connessione, quattro ganasce. Ma era una risata esterica, ovviamente. No, mica rideva per la battuta, rideva perché aveva capito che non doveva più chiamare le onoranze funebri, è ovvio, mi sembra bene. Allora, capite, l'autoironia alla fine è una forma di autocommiserazione evoluta. Nel senso che il vittimista, diciamo, il vittimista quello simplex, dopo un po' ti appesantisce, non sai proprio come lo devi gestire. invece il vittimista autoironico ti mette più a tuo agio, capito? Cioè a un certo punto tu quando vedi che esagera ti senti più libero di mandarlo serenamente a fanculo. È bella questa cosa. Qualcuno si sarà riconosciuto perché sennò quello che ha fatto partire è l'applauso sicuramente. Molto bella, però ecco, torniamo un attimo al tema del punto di riferimento. Cioè, io sono andata tanto in crisi perché sì, ok, l'autoironia è un mio modo d'essere, dico, non sarà troppo autoreferenziale parlare di questa cosa che mi riguarda direttamente. Il fatto è proprio che quando riflettevo sul tema mi sono resa conto che spesso i nostri punti di riferimento li diamo un po' per scontati, cioè li accettiamo come punti di riferimento della nostra vita piuttosto delle convenzioni sociali. Per esempio, in questo momento va tanto di moda Dio Patria Famiglia. È tornato un po' di moda in questo periodo, no? E io che vi devo dire sarà che a me questa cosa mi suona così come un contenitore vuoto? Mi suona più come un proclama che altro? Non lo sento, vero? Non lo sento mio? Cioè, mi fa uno strano effetto. Cioè, per me Dio Patria Famiglia è un po' come bere tanto, mangiare le verdure e tonificare i glutei. Cioè, alla fine mi crea un certo disagio. Mettiamo nello specifico. Appena mi hanno comunicato il tema, io subito ho pensato vabbè, per me nella mia vita sono molto importanti i miei genitori. Poi mi sono fermata un attimo e ho detto sì, Velia, però sarai sul palco di un TED mica alla finale di Miss Italia. Cioè, cerchiamo di elaborare un attimo il concetto. E allora mi sono detta sì, è vero, i genitori sono sicuramente un riferimento importante, il loro affetto è necessario, è perfino irrinunciabile, non lo metto in dubbio. Però, se io penso alla donna che è mia madre, effettivamente lei è stata un punto di riferimento totale per me, un faro, perché io non ho ripercorso neanche una delle sue scelte nella vita. Quindi totale, veramente. Allora mi dico, per questo, grazie, viva le mamme. E viva le mamme. Per questo dico, se io non elaborassi questo modello, noi abbiamo il dovere verso noi stessi di elaborare i modelli che abbiamo assorbito, perché se io non avessi elaborato il modello di mia madre, adesso mi sentirei una fallita, perché non sono sposata, non ho figli, sono una gattara e soprattutto raramente riesco a tenere i gomiti attaccati ai fianchi quando sono a tavola. Quindi, ok, ho rielaborato questo modello, mia madre rimane un faro da un altro punto di vista, nel senso che non ha mai giudicato la mia vita così tanto diversa dalla sua, che insomma è una cosa importante. Ma l'autoironia, perché per me è così importante? Perché è una forma di autoconsapevolezza, cioè è un modo per conoscersi un pochino meglio ed in questo senso diventa anche una forma di autodifesa, specialmente verso quelle persone che si prendono troppo sul serio. Ecco, saper ridere di se stessi è una buona arma verso chi si prende troppo sul serio. Ma vediamo un secondo caso di studio. L'altro giorno ho letto un commento sotto a un mio video pubblico su YouTube che recitava così. a me sta comica mi fa pena. Allora dico beh, grazie. La pietà se è un sentimento nobile. Dice no, è inutile che fai la cosa spiritosa che rispondi ironica è proprio che mi fai schifo non è un sentimento nobile. Accetta le critiche. Dico no. Io le critiche tendo ad accettarle solo quando sono mosse da un sentimento nobile tipo l'arrapamento sessuale. Ecco, è una cosa più tipo quello che mi ha scritto quando ti guardo in tv rido e ce l'ho duro. Ecco quello diciamo. Un pochino già più mi interessa di più. Quindi dico è importante capite per il mio lavoro l'autoironia ma mica per far ridere. No, no, no. Per far ridere servono le tecniche. Serve la tecnica. Si impara come si scrive come si sta sul palco. No, no. Dico l'autoironia nel mio lavoro è importante proprio per sopravvivere a questi che non hanno il senso dell'umorismo in questo senso qui. però voglio dire c'è tanta gente c'è tanta gente che medita. Ci sono persone che meditano. Io questa sera umilmente vi proporrei di praticare l'autoironia dieci minuti al giorno. Come si fa? Voi tornate a casa dopo una giornata un po' diciamo complicata una giornata complessa una giornata di merda diciamo tornate a casa e siete un po' abbacchiati abbattuti. Allora io vi consiglio vi mettete lì vi ripercorrete un attimo quei momenti che vi hanno messo un po' in difficoltà e cercate di trovarne un lato umoristico cercate di vedervi voi in qualche modo più piccoli un po' più indifesi ma anche un po' più spiritosi perché sapete che c'è questo ho imparato nel mio lavoro una risata non li seppellirà ma vi aiuterà senz'altro a sentirvi un pochino meno incazzati un pochino meno arrabbiati un pochino meno frustrati e per le donne ve lo dico a me l'autorionia mi fa pure sentir meno gonfia giuro altro che plin plin grazie a tutti grazie a tutti